Ciao ragazzi, un saluto da Migu. In questo Video Team Radio ascoltiamo le considerazioni finali post-race di Carlos Sainz, che oggi mette a segno una bellissima prestazione che lo porta dall'ultima fila direttamente in zona punti, portando a casa qualche ottimo punto e ridato per il campionato costruttori. E poi ascoltiamo anche l'intervista fatta da Formula 1 per la vittoria del titolo di pilota del giorno. Ottavo posto, ottimo lavoro e ottimo recupero. Sì, grazie ragazzi, ottimo lavoro. Sì, il passo era molto forte, molto bravo. Carlos Sainz, ringrazio, sei il driver del giorno, iniziando dalla fila di grida, finisando in P8, dimmi quanto è stato difficile oggi in pista. Carlos Sainz, congratulazioni, sei il pilota del giorno, sei partito dall'ultima fila della griglia ed hai finito in P8, P8. Dimmi quanto è stato difficile oggi in pista. Ah, davvero? Ok, è stato il primo driver del giorno della mia vita, mi è stato un po' pilota del giorno. Ci sono voluti alcuni anni. Ma sì, grazie. E' stato abbastanza difficile all'inizio. Potevo fare un sacco di mosse quando ero ancora bagnato. Poi quando si è asciugato c'era solo una linea di corsa e io non potevo più sorpassare così facilmente. Eravamo un po' bloccati, ma a parte questo un buon recupero e un ritmo davvero forte. Quindi sono felice. E' stato fantastico parlare con te e godersi la tua prima volta come pilota del giorno. Grazie molto. Adios. 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 From the Smooth Operator. Grazie. Grazie.